Quindi, che caspita abbiamo fatto? Allora, prima di tutto, la prima cosa che abbiamo dovuto fare, che abbiamo fatto, cioè... Non c'è più lo scaldabagno, ragazzi, c'è un fantastico ventilatore che fa molto premium questa cosa, ma in realtà è che prima c'era lo scaldabagno, abbiamo solo appeso il ventilatore, però fa premium. Abbiamo levato quella sottospecie di aborto che c'era là sopra, che non si poteva vedere. Però questa cosa va un po' contro i tuoi video. Ho detto che il condizionatore in palestra è inutile, non il ventilatore. Il condizionatore, perché il condizionatore va ad aria fredda, il ventilatore sposta l'aria, quindi va benissimo. Comunque, abbiamo spostato questo benedetto, questo benedetto scaldabagno che c'era, abbiamo messo il ventilatore e abbiamo fatto anche una presa, cioè abbiamo fatto, abbiamo sfrutto, sfrutteremo, perché ancora non è finito, sfrutteremo quello che è la presa della corrente dello scaldabagno per poi magari collegare sia il ventilatore, sia... Vedremo qualcosina di nuovo. Poi, ovviamente, abbiamo dato una mano di pittura. Abbiamo pitturato tutto il muro. Come potete vedere, c'è rimasta qualche linea strana, perché è tutto fatto in casa, ragazzi. Non è che abbiamo preso gli operai. Voi lo vedrete nel video, l'avete già visto nel video. Essendo un home gym, da home gym, da buon home gym, che si rispetti, è tutto fatto in home. Abbiamo iscurito leggermente il grigio che c'era prima, perché volevo renderlo un po' più... Dicono che si crea un ambiente un po' più spazioso, cioè che sembri più grande, luminoso, ma sinceramente, non lo so, a me piace tutto qua. Abbiamo eliminato tutte le scritte e abbiamo creato una nuova scritta. Questa è una delle cose più belle che mi sia uscita nella mia vita. Come avrete visto nel video, abbiamo fatto tipo quello stencil, quella specie di stencil, quello scotch, tutto fatto in maniera chicchettina con il proiettore, eccetera, eccetera. Non sarebbe dovuto uscire così. Perché non sarebbe dovuto uscire così? Perché in realtà, allora, è andata in questo modo. Ora Alessandro si incazzerà quando guarderà questo video. Alessandro che stai facendo questo video, bravo, buttagli un commento e dimmi se non sto dicendo una cazzata. E io sono contento che si incazzi. Quando abbiamo messo lo scotch, per fare la scritta, ho detto io ad Alessandro, Ale, senti, non è ancora asciuttissima la pittura. Aspetterei, ma facciamola domani. Quando tireremo via lo scotch, poi si tira via la pittura. No, non ti preoccupare, è asciutta, bla, 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 bla. Questo è il risultato. Anche se, vi dirò, tra i commenti vari, ho chiesto poi ovviamente pareri a chi è venuto qua in palestra a guardarle, eccetera, eccetera. Ho chiesto, ma secondo me è meglio così o è meglio rifinita? La maggior parte mi hanno detto, guarda, è meglio così, stile industrial. Effettivamente è figo, con le viti. Ecco, cioè è figo. Quindi probabilmente rimarrà così. Coprirò forse queste quattro cazzatine fuori, perché quello che c'è dentro mi piace. Ragazzi, questa è una rivoluzione. Questa è la rivoluzione. Sergio, ho mai pitturato il muro di rosso? È moquette. Mi fanno le verticali cose. Moquette. Moquette è un po' più, è premium, molto più premium di un muro bianco. E la parola del giorno è premium. E niente. E di quanto ne ho comprato ovviamente ne ho avanzato anche un pezzo. Che utilizzo per fare dei lavoretti a terra, molto simpatici, molto simpatici, molto, molto ginnici. Altra cosa importante. Se ricordate, lì sopra c'era un macello di cartoni, di cose che, ovviamente non mie, però c'era un macello di cose che, grazie all'aiuto di i proprietari delle cose, siamo riusciti a spostarli. Creando finalmente un pochettino più di luce. Perché prima questa era un'aria abbastanza buietta della situazione. Infatti adesso già, forse con le riprese, potremmo anche fare le riprese un po' più spostate verso il centro. E niente ragazzi, poi fondamentalmente ci sono stati ritocchini, buttati bianco, cose di qua, vite di là, sistema di qua, sistema di là. Quindi qualche fesseria così. Quello, tutto racchiuso in cinque giorni di lavoro, giunta nelle feste natalizie. Quindi quando la gente si è riposata, ah, un'altra cosa, un'altra cosa figa pure. Questa è una cosa figa. Ha una storia lunghissima dietro che però ovviamente non è che vi sto qua a raccontare per una questione di YouTube. Il segnale della, 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 diietro d'accesso, ragazzi, diietro d'accesso, perché non mettere un diietro d'accesso dentro una palestra? C'è il motivo, ce l'avevo. Me lo sono ritrovato nello sgabuzzino. L'hai ripresa? Sì. Bellissimo. E queste sono state le novità aggiunte per questa prima ristrutturazione, ragazzi. Ovviamente sarà la prima di tante altre. Anche perché, anche perché potrebbero esserci belle novità. Potrebbero esserci belle novità. Speriamo che ci siano belle novità. Sì, continueremo con vari vlog per i prossimi aggiornamenti. Avete visto, ormai stiamo cominciando questa cosa del vlog. Non sta, non sembra che stia andando male. Nel senso ci sta piacendo, vediamo un po'. Un incontro tra gatti? E con questo incontro amoroso tra la mia gatta e un gatto estraneo, quindi brava, lina, sempre con me, mi raccomando. E ci vediamo al prossimo vlog, perché questo non è un video, ci vediamo al prossimo vlog. Giusto? Ciao. Ah, fate i buoni. Che vero! Che vero!